D'Antonio Ascensori, professionisti dell'elevazione, senza limiti. www.dantonioascensori.it Sabato 6 febbraio alle ore 18 sarà un giorno importante per la parrocchia di San Lorenzo in Cava dei Tirreni. Infatti dopo tanti anni di zelante servizio pastorale del parroco Don Raffaele Conte, per raggiunti limiti d'età dopo le dimissioni canoniche presentate, l'arcivescovo Monsignor Orazio Sorricelli ha nominato amministratore parrocchiale il giovane sacerdote Don Giuseppe Nuschese. Don Giuseppe Cavese, nato il 19 maggio 1989, specializzato in teologia biblica, è direttore dell'ufficio vocazioni ed ha svolto il compito di vicario parrocchiale presso la comunità di San Vito. Gli abbiamo chiesto qual è il sogno che desidera realizzare nella parrocchia di San Lorenzo? Beh, penso che come ogni prete il sogno maggiore sia quello di evangelizzare, cioè quello di essere in grado di mostrare la bellezza del volto di Dio e del volto della Chiesa. E in questo senso ho un desiderio grande per la comunità di San Lorenzo, quello che possa essere casa per tutti. Mi piacerebbe tanto che la realtà parrocchiale di San Lorenzo potesse essere un luogo dove tutti si sentono a casa, credenti, non credenti, persone che si impegnano nel sociale o persone anche che non hanno trovato ancora la propria strada. Questo in un certo senso è anche la realtà che mi sforzo di servire nel servizio delle vocazioni. Quindi vorrei tanto che si potesse avvertire la bellezza di essere comunità, a prescindere dalle posizioni, a prescindere dalle idee. E sono certo che ognuno può fare la sua parte. Quindi iniziamo questa nuova avventura con tanti sogni, con tanti desideri, anche con tanto timore, perché c'è sempre il timore di doversi confrontare con qualcosa che è sempre più grande di sé, però con la certezza che il Signore non ci abbandona in questo momento. Il Signore ci accompagna, come accompagna tutto il cammino della Chiesa, in tutti gli anni della storia.